Come saranno i motori del futuro e in che direzione sta andando la tecnologia? Domande che sono state al centro della prima edizione di FPT Industrial Tech Day, l'evento organizzato a Torino dal brand di CNH Industrial che si occupa di progettare e realizzare motori, cui hanno partecipato esperti e giornalisti provenienti da tutto il mondo. Durante l'evento FPT Industrial ha sorpreso i partecipanti presentando in antiprima mondiale il nuovo motore a gas naturale, il Cursor 13NG, il più potente mai realizzato da FPT. Durante l'evento gli esperti e la stampa hanno potuto visitare il centro di ricerca e sviluppo del gruppo e le aree dove vengono provati i motori a gas naturale. Il Tech Day è stata un'occasione per vedere in anteprima le tecnologie che devono essere ancora presentate al mercato e per far emergere l'importante trasformazione avviata da FPT Industrial, un processo di decarbonizzazione che porterà a un futuro sempre più attento all'ambiente e sostenibile. Il Natural Gas è la risposta che CNH Industrial dà alla ricerca di un mercato sempre più attento all'ambiente e ad un fuel che sia sostenibile e vicino e rispettoso dell'ambiente. È una risposta attuale basata però su più di 20 anni di ricerca e sviluppo che ha prodotto più di 30.000 motori ormai equipaggiati sia per le applicazioni on-road e presto su quelle agricole e industriali. Di grande interesse anche le tematiche legate allo sviluppo del biogas. L'Italia è il secondo paese in Europa per presenza di impianti biogas e è all'avanguardia, siamo in attesa di una nuova normativa per incentivare il biometano in rete ad uso nei trasporti come biocarburante avanzato. Per oltre 20 anni FPT Industrial ha dimostrato di credere nel gas naturale vendendo più di 30.000 motori per autobus e camion e ora per prototipi di trattori. Il nuovo Cursor 13 Natural Gas promette di essere un vero catalizzatore di cambiamenti per le macchine agricole grazie alla sua tecnologia d'avanguardia. Le caratteristiche principali sono una grande potenza, 460 CV, equivalente o addirittura superiore a quella del diesel, ma con contenuti livelli di emissioni sia inquinanti sia in termini di rumore. Sviluppato a Torino e costruito nello stabilimento di Bourbon-Lancis in Francia, il nuovo motore Cursor 13 è stata la vera sorpresa dell'FPT Tech Day. Grazie. 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 Grazie.